Siamo sotto la zona della tomba del Mulai Idris, questa è la zona ancora andiamo verso Karawin ecco stiamo arrivando alla Karawin ecco qui chiaramente possono entrare solo i musulmani ecco questo è l'ingresso di una delle moschea più grande del Marocco però non si può entrare ecco siamo arrivati in Place Sefarin, questa è la piazzetta con molti negozi grazie a tutti